Sto bloccando tutto Ma bello a tutti ragazzi qui è Pietro Marinelli che oggi vi parla E oggi siamo in un nuovo video su robe a caso Non è vero E' un video che voi non lo vedete Su Papers Please Che dovrebbe funzionare Ok 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 scusate l'interruzione E' mia sorella Va bene Ok Paper Freeze è un gioco E' solo questo giro Vabbè sto scherzando Paper Freeze è un gioco In pratica Su Diciamo è burocratico Sulla Repubblica E noi infatti lavoriamo la docana di questo Grendin E dobbiamo fare entrare la gente buona E probabilmente però dobbiamo non fare entrare la gente cattiva Ok Vabbè Vabbè Grazie in presidio è apertato con sei anni Mi serve da capisci Mi serve da leggerci Certo C'è Pietro Marinelli E va bene Va bene Il maio sonnisi è bloccato Ok Ora non so se si vedrà tanto Comunque faremo due giornate per oggi Ok Apriamo questo Arzosca Ministero dell'accoglienza del volettino ufficiale Va bene Io ho visto che già lo so Ve lo dico soltanto in parole povere Per oggi Non dobbiamo fuori entrare gli stranieri Solo quelli di Arzosca Che è il paese Che noi stiamo Proteggendo Ok Finalmente il turno caso Allora sei maschio Sì 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 Lei sei di Arzosca Quindi E' troppo bello Perché poi non si manca tanto bello Vabbè Come vedete Il gioco Scusate se si vede anche alzo il buono Però ok Io non lo sento Il presidio è piccolo Più di conto che lo devo Oh Non è un soltare il presidio Che caccia fare la legge Perché la legge riceve che chi non solta il presidio Ma va va E' il prossimo E' il prossimo Tu sei bella 8 ore che rispetto in cosa schifosa Spero che vale la pena Ma non vale il cavolo Che tu sei nella pubbia E' il prossimo E' il prossimo E' il prossimo Ok E' il prossimo Ok E' il prossimo E' il prossimo E' il prossimo E' il prossimo tu sei una maestra qua, quanto sei brutta con le chiave ma patine normalmente questo sarà il primo giorno ed è facilissimo perchè dobbiamo solo far entrare quelli di Arsosca già poi dal secondo giorno inizia più a farsi difficile perchè poi la ci saranno le incongruenze i paesi si, i paesi no la data che molte volte ti uccide ok perchè si qua la data ti uccide ok scusate se non parlo molto in questo gameplay perchè questo non è che un gioco c'è da parlare molto tu sei Mussolini cinese Hitler ecco vedete quando sentite questo suono che in pratica è la sveglia diciamo so che finisce in pratica ho bagato tutto usa le caselle più sotto per gestire le spese oh stipendio 50 dollari buono buono ok va bene non dobbiamo fare ah scusate se non si vedrà la mia faccia la mia bellissima faccia solo che quando gioco ai miei giochi si toglie solo se vado su internet e forse devo riuscire pure a portare un gameplay di app.io con supermiki forse forse dico forse ok vedete ok ora dalla data odier non è permesso l'accesso agli stranieri con passaporto in corso di validità quindi ora c'è pure l'ispezione questa qui ok no non regole si so tutto quanto quindi va a tenne ma perchè mi si blocca tutto avanti un altro ok vediamo si chiudo ok ah non mi dava pulire così bravo ah polizia questa è brutta aspetta non so non so cosa ho fatto no protuvali aspetta puoi entrare puoi entrare ok scusate raga che lo stavo scherzando quindi allora femmina ci sei anche cicciottona ok perché poi il nome è scritto sotto comunque io non faccio neanche rispezione non ti chiedo niente te ne vai e basta perchè io se ne sei vero ah 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 ma a me si blocca tutto che roba la foto non sei tu mi dispiace anni sono stati crudeli mmm io non ti faccio entrare perchè sono stuschiano ok non mi dava niente avevo ragione presto oh oh mi si aprono le robe a caso allora femmina ci sei la foto si è uguale la data c'è jacob jara si jara jacob si puoi entrare ok fatemi finalmente e cavolo ok niente a missioni scusate johannesson carter eh cosa si femmina com'è perchè dici che si femmina ah 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 come dici il documento ma quando sei bella allora però non te ne devi andare a casa sei ancora più bella scusate tolgo sto mouse che mi sta dando un fastidio enorme ciao bello sembri migliato eeeh eeeh no ma femmina ci sei si ok puoi entrare pare di si va tm io resto un paio di mesi ricordati eeeh da tatita tatiana oh bella cresta zio la voglio anch'io maschio qua non c'è la cresta però perchè non c'è la cresta eeeh no 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 spara allontanati allontanati l'hai ucciso scappa sei scemo sei scemo sei scemo tutte e due aaaah ho tornato interrotto per l'attacco terroristico questi vengono salvati all'inizio del giorno ok va bene ragazzi direi che per oggi può essere tutto io ora vi metto la telecamera qua aaaah aaaah va bene direi che per oggi può essere tutto iscrivetevi se non l'avete ancora fatto lasciate mi piace e un commento perchè fanno sempre bene e ricordatevi di condividere con tutti amici e parenti quindi ciao ciao